Oggi vedremo tre sistemi facili per mimetizzare i capelli bianchi della ricrescita. Premessa importantissima. Rosario non ha capelli bianchi, lo dico per lei in modo che siamo tranquilli, ma è l'unica modella che ho a disposizione, lei è fortunata. Primo sistema, facciamo la riga dove normalmente si aprono i capelli, in questo modo qua, poi con un pettine a coda creiamo una linea continua a zig zag, in questo modo qua. Un leggero velo di lacca e questa linea tende a mimetizzare e confondere la ricrescita dei capelli bianchi. Secondo metodo, prendiamo una spazzola piatta e diamo volume a tutti i capelli, pettinandoli al contrario. Prendiamo delle piccole sezioni di capelli e le cotoniamo. Come le dobbiamo cotonare? Prendiamo la sezione, la proiettiamo verso l'altro e diamo dei colpetti verso il basso, in questo modo qua. Uno, due e tre. Al lato, verso l'alto, uno, due e tre. Passiamo dall'altra parte, e l'ultima ciocca, uno, due e tre. Con la punta del pettine andiamo a pulire le ciocche e questo volume che così abbiamo creato, tende a mimetizzare e nascondere i capelli bianchi. Sempre l'ultimo fidato col pettino di lacca ci dà una mano per mantenere il tutto. Ecco qua. Terzo ed ultimo segreto, consiglio. Se non avete una francia oppure avete molti capelli bianchi nella coroncina qua sul davanti e nei contorni, nelle tempie, possiamo cotare per un sistema diverso. Raccogliamo tutti i capelli, prendiamo un elastico, raccogliamo tutti i capelli in una coda di cavallo, cercando di tirarla verso l'alto quanto più è possibile. Se qualche ciocca scende, lasciatela stare perché deve essere un effetto sciabbi naturale, non deve essere preparatissimo. Quindi facciamo scendere qualche ciocca, pettiniamo tutti i capelli verso il centro, verso l'alto, ripeto sempre in maniera casuale, non deve essere una cosa molto preparata e creiamo una classica coda di cavallo e poi proiettiamo i capelli verso il davanti come se fosse un prolungamento della frangia, un colpezzino di lacca per armonizzare il tutto e questi capelli che sono qua sul davanti vi vanno a mimetizzare e coprire tutta la corona davanti con l'eventuale ricrescita. Ecco qua, tre sistemi veloci veloci, facili facili per mantenere un aspetto gradevole anche in questo momento particolare. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao!